Doppia cifra che va verso la conferma, che risultato è per voi? È un risultato straordinario, un mese e mezzo fa ancora ci davano il 3-4% e quindi per noi in completa autonomia è un risultato straordinario. Ma la mia sarà una posizione diversa rispetto a quella che ho fatto finora, sarà una posizione molto più propositiva e alcune proposte della campagna elettorale le riporterò in Consiglio Comunale sperando che il Sindaco le possa prendere in considerazione. Mi interessa che alcuni punti in particolare vengano approvati e portati avanti. Facendo l'analisi del voto, ne facevamo anche poc'anzi, insomma, qualcosina al centro-destra probabilmente l'avete rosicchiata. Sì, l'ho rosicchiato ma il vero sconfitto di questa campagna elettorale è il centro-destra della mano che ha dimostrato di essere diviso in tante anime, di non riuscirsi a compattare neppure su una proposta politica e ha dimostrato di essere fragilissimo e quindi loro dovrebbero fare una riflessione dall'interno, dovrebbero fare una riflessione anche tra di loro perché dai dati è innegabile che qualche partito di centro-destra ha tradito il candidato sindaco. Sul fatto che il terzo polo si è sgretolato, comunque azione è andato appunto con Antonetti, adesso vi sentite più forti su questo punto? Sì, ci sentiamo molto più forti, è un risultato molto lusinghiero, io ho già ricevuto una telefonata da Roma e credo che anche questa differenziazione e questa divisione abbia diviso l'acqua dall'olio, come si dice, e quindi possiamo dire di avere un risultato autonomo da questo punto di vista, poi vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi per le regionali. Come risultato se l'aspettava che non ci sarebbe stato un ballottaggio? No, non me lo aspettavo perché pensavo che il centro-destra fosse più competitivo in realtà e quindi pensavo che sarebbe stato difficile, però non impossibile. Grazie. Grazie. Grazie.